Tempo di elezioni amministrative. Il 10 giugno i residenti di quattro comuni lecchesi sono chiamati a votare per rinnovare sindaci e consigli comunali. Le consultazioni sono in programma a Calolzio Corte, a Robbiate e Olivetto Lario nel neonato comune di Valvarrone, costituito dalla fusione di Introzzo, Vestreno e Tremenico. Andando in ordine demografico, a Calolzio sono quattro le liste in corsa. L'attuale maggioranza di centro-sinistra si è divisa in due civiche. La prima, cittadini uniti per Calolzio Corte, alla guida della quale si ripresenta il sindaco uscente Cesare Valsecchi. E la seconda, sentimento civico, che candida al sindaco il capogruppo di maggioranza Roberto Monteleone. Il centro-destra sostiene invece compatto la candidatura del leghista Marco Ghezzi. Infine, in corsa Diego Colosimo per la lista Calolzio Cambia, legata al gruppo di opposizione della Casa delle Sinistre. A Robbiate, comune Brianzolo con 6.000 residenti, il sindaco uscente Daniele Villa si ripresenta alla guida della civica Continuità e Progresso. A sfidarlo Alessandro Danza, capogruppo di opposizione, che guiderà la nuova lista Cambia Robbiate. Tre, i candidati sindaci in corsa a Olivetto Lario, comune di 1.200 abitanti, che si affaccia sul ramo lecchese del Lario. Bruno Ponti, sindaco uscente, si ricandida alla guida della lista Olivetto Lario per tutti. A sfidarlo, il consigliere di opposizione Fabio San Pietro, in corsa per Olivetto nel cuore. Terzo candidato, Pierfranco Neigri, in corsa per la lista insieme per Olivetto. Sarà sfida tra due ex amministratori, infine per il comune di Valvarrone, nato dalla fusione di Introzdo, Vestreno e Tremenico, che conta oggi 615 abitanti. In corsa le liste Valvarrone, progetto comune, guidata dall'ex primo cittadino di Introzdo, Luca Buzzella, e per Valvarrone, lista guidata invece dall'ex vice sindaco di Vestreno, Barbara Maglia.